Sembra un termitaio, ma non lo è. Là sotto ci sono i miei amici etruschi. Gli unici veri amici che ho al mondo. Non vedo l'ora di scendere laggiù tra quelle tombe per sentirmi un po' vivo. Sì, sono morti più di due mila anni fa, secondo l'anagrafe della storia. Ma per me sono più vivi di questa specie di robot che manovra questa trappola volante. Ehi Lindbergh, abbassati un po', voglio fotografare questo punto. Ok. Figli di gran puttana sti etruschi. Non lo si sapevano vivere, non si facevano mancare mai niente. Mangiare come maiali, bere come cammelli e a letto come mandrilli. Le loro donne non si tiravano mai indietro. Quei coglioni dei romani, col loro cervello da militari effettivi, le chiamavano toscane. Puttane, cioè. Ma i romani non capivano un tubo di donne, è assodato. Già. Sì. Grazie a tutti.